Ciao a tutti ragazzi sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2 Oggi finalmente ho finito la build che stiamo creando ormai da una settimana precisa E posso dirvi che questa build mi ha letteralmente distrutto la casa Quindi sì, dobbiamo un attimino sistemare tutto Vabbè, ma tanto qua siamo in zona no timer quindi questo possiamo farlo in un secondo momento Finalmente ho creato i binari Ci tengo a dire prima di iniziare, voi nel mente lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella E sotto nei commenti fatemi sapere se avete visto il progetto e se vi piace e come è venuto ovviamente Ci tengo a precisare che ho voluto portare nella Big Vanilla un po' di degrado siciliano Quindi mi sono ispirata per la struttura come ho detto più volte alla struttura di Catania delle Ciminiere E per quanto riguarda i servizi dei binari mi sono ispirata alla Sicilia in generale Perché i binari rappresentano una condizione di degrado E soprattutto di poca efficienza E anche velocità Mettiamo caso che alcune tratte non sono velocissime Altre invece sono interrotte Ci sono dei binari chiusi e quindi questo fa sì che ci siano dei ritardi nella metro Perché appunto c'è solo una tratta aperta Beh noi aspettiamo comunque fondi da parte della Big Vanilla per poter lavorare e migliorare al meglio I servizi pubblici della metro perché ci tengo a dire che comunque i binari saranno utilizzabili senza pagare Visto che comunque nella Big Vanilla fanno pagare praticamente tutto Pure l'aria che respiri ogni farm costa 5 Addirittura quella del cibo costa 25 Direi che la metro è un servizio gratuito offerto da me Vabbè è dallo stato E quindi essendo un servizio gratuito nessuno può lamentarsi della funzionalità della metro light Perché ragazzi senza fondi Senza manutenzione Purtroppo la situazione è questa Ho letteralmente finito il tempo Infatti ho dovuto riacquistare con 20 punti un altro ora di gioco per piazzare i binari Sì quindi praticamente ci ho perso solo da questa sfida perché il massimo che potrò prendere saranno 40 punti Infatti come vedete addirittura mi sono rimasti 7 minuti Quindi dovrò farvi vedere i binari a velocità supersonica perché in 7 minuti non ce la facciamo a fare tutte le tratte Però prima vi faccio vedere più o meno che tratta ho fatto Allora dovrei avere l'elitra equipaggiata Ho cercato di seguire tutto diciamo tutta la parte centrale Quindi qua ci sarà una prima fermata Che se non mi sbaglio dovrebbe Allora no la prima fermata scherzavo È alla stato del big re Quindi da lì partiamo con il primo binario Ve lo faccio vedere da sopra per non perdere tempo E arriveremo qua Addirittura ho fatto delle scale Ora non mi ricordo Ecco qua Ho fatto delle scale per scendere e prendere direttamente la tratta da qui Vedete questi blocchi di pietra perché non l'ho ancora sistemato Essendo zona no timer Ora quando non avrò più niente da fare perché comunque ho finito il tempo Andrò a fare delle piccole entratine carine Ma proprio Per far capire che qua dentro si scende per andare nella metro Perché se no così non si capisce Quindi questa è la prima fermata che appunto è spawn E è stato del big re Vabbè parte centrale Poi la seconda fermata invece è casa di Kendall Carly Kat e possiamo anche dire Carpy Infatti arriviamo qua Poi non so se la spostrò un po' più a destra Comunque questa è la seconda fermata Ci sono ovviamente le scale per scendere Ho illuminato tutto quindi non dovrebbero spawnare dei mob Poi l'unica zona che non ho coperto Perché comunque era troppo lontana era la casa di Nico Perché la casa di Nico è qua dietro Quindi il binario doveva fare un giro troppo scomodo E' troppo Cioè era scomodo Ma poi magari avendo tempo Sistemerò anche alcune tratte Quindi questa è la seconda tratta La terza tratta Va tutto sott'acqua Ovviamente sono scesa un po' di più E arriva praticamente a Castello Casa Marci E Tride E la Pokéball Scusate che cos'è la Pokéball Cioè non ci sono mai entrata dentro il magazzino Che cos'è Io l'ho sempre vista da fuori Ah c'è un cane Ah era un regalo dalla parte di Nico Va bene Ah ok Ok ho capito Ho capito Non avevo afferrato Subito Quindi questa è la seconda fermata Anche qui cercheremo di fare una cosa carina Per abbellire Andiamo alla terza La terza è la fermata Dei Tpoc Casa Fungo Tpoc Casa Fungo Tribunale E possiamo anche dire Casa Lollo Ora io ricordo di aver fatto un'altra fermata Che poi però nei binari Non ho trovato Cioè Ecco aspetta Ah qui c'è un'altra fermata Quindi sì esatto Non so perché Questa poi non l'ho trovata No allora questa è quella dei Tpoc Ok questa fermata è giusta Era quella che era troppo indietro E poi l'ho rifatta Quindi la fermata La fermata arriva qua Quindi è corretta E poi torniamo indietro Quindi ho fatto in modo da completare il giro E tornare proprio alla stazione centrale Quindi si ritorna qua sotto Infatti ci saranno dei binari di andata e di ritorno Addirittura avevo fatto due corsie Però alcune non sono riuscite a completarle Prima di andare sotto Comunque volevo vedere questa cosa che ha fatto Nigo Con le teste di Drago Perché ho visto nei video che è una specie di rampa di lancio per l'elita E devo dire che l'idea è veramente 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 Oh no si perdono minuti Quindi facciamo presto Facciamo presto Perché il tempo è prezioso Quindi io salgo qui E sto coso mi dovrebbe sparare in aria Non so quando come dove perché Cosa devo Aia Aia Oh oh No stavo morendo Ok Oh oh Va bene Ho rischiato la vita due volte Se anche perché il lancio è talmente veloce Che non ho avuto il tempo di fare la cosa con lo spazio Va bene va bene va bene va bene Poi altre build che sono state fatte Qui ce n'è una che credo sia di Carly Credo E credo che sia tipo una sorta di libreria Per incantare Quindi una cosa comune che può essere utilizzata da tutti Può essere comodo Così non vai ogni volta a casa Diciamo che è vicino a casa mia Quindi in questo caso Vado a casa Non vado a casa Però è comodo Perché riviente eccetera Comunque devo dire che la struttura è veramente carina Molto bella E poi Bo Marci ha creato la torre gigante Che non ho capito a che cosa serve Cioè nel senso È bello esteticamente Ma non ho capito qual è l'utilità È tipo un faro Che cos'è Perché vedete Ha questa cosa fighissima Qua sopra È veramente bella questa cosa fatta così Sembra proprio una torre Cioè un coso dei fulmini Ah come che si chiama O un'antenna Ah attenzione Cosa sta facendo Jackson E no Enorme anche questa eh È fatta di terra Sembra Un Per chi ha giocato a Zelda I cosi Come si chiamano Non mi vengono in nome I quattro Uno dei quattro cosi sacri Eccetera Cioè ragazzi È uguale Sembra Ho un piatto No nel senso è bello Cioè sembra una struttura enorme Fatta in terra Quindi non so Non usciamo dalla zona Con il timer Però Boh mi dà proprio quella sensazione Di Zelda Dei cosi sacri Non mi ricordo il nome Ragazzi Quattro cosi L'avete capito Ci ho giocato a Zelda Due volte E che non me lo ricordo Perché io quindi Mi faccio schifo E poi arriviamo a quella di Loco Che sta Stanno andando avanti Perché Loco Mi ha detto che voleva fare un bazar Con tutti i mercanti per scambiare Ora io spero che lui Faccia questa struttura E metta il servizio a pagamento Non metta il servizio a pagamento Perché Conoscendo Loco Beh secondo me vorrà un tot di punti Per entrare qui Ma io Non so se Cioè è un progetto molto molto enorme Questo bazar Perché comunque deve portare anche i villager Cioè ancora la struttura Non so se Se è finita Può essere di sì Può essere che gli mancherà No vabbè Penso che Voglia fare un tetto a cupola Credo Comunque I quattro draghi di Nico Mi pare che sono quattro E sono Fatti in base I quattro draghi sono quattro Grazie Scusate È mattina presto Io non Non realizzo certe cose La cosa bella che ha fatto dei draghi E che sono a tema In base alla zona che ha fatto Oh comunque qua mi lancia subito E lì non mi ha lanciato subito Va bene Quindi dobbiamo stare attenti Una cosa figa che volevo fare Per quanto riguarda i binari Era fare un passaggio Sul bioma dell'oceano Visto che l'ho fatto io ovviamente Volevo far vedere tipo Con i vetri Tutta questa zona sotto Solo che era complicato E non avevo tempo In realtà era fattibilissimo Ma non avevo tempo Ah ma vi ho detto una cosa importante Di fatto che io build Perdo qualcosa di importantissimo Ho perso la spada La mia spada Inciantata Al massimo Era una spada potentissima In eterite ovviamente Aveva saccheggio 3 Cioè Era potentissima Io l'ho persa Non so nemmeno come Improvvisamente Mentre la cercavo Nell'inventario Ho detto Non c'è più Quindi non ho letteralmente idea Di dove io L'abbia potuta buttare O cose Del genere ragazzi Quindi non lo so Cioè Almeno volevo Vorrei sapere Dove Volontariamente l'ho buttata Anche perché mi ricordo Di averla utilizzata Quel giorno Non stavo registrando E quindi Non ho la grip Di dove ho Probabilmente ho buttato la spada E quando sono andata a cercarla Probabilmente l'ha dispaunata Ho perso la mia spada Potentissima Mi giuro Io Non c'ho voglia Di rifarmare le cose Io quando faccio una cosa Cioè Basta Basta Non lo voglio più rifare Quindi la mia povera spada Infatti come vedete Ammazzo i mostri Con il piccone Sì vabbè Con l'ascia E non è Cioè No vabbè È incantato Però ovviamente La spada era più forte E niente Ogni volta succede La stessa Identica cosa Nella statua del big re Ho perso il piccone Sempre Fortissimo Incantato al massimo Eccetera E in modo Ho perso la spada Per la cosa Basta Non devo buildare più O quando buildo Devo farlo senza niente Senza equipaggiamento Senza nulla Il corpetto Eh no Perché mi vengono le fobie Allora Dormiamo E facciamo Ovviamente andrò Ovviamente andrò a togliere Il letto E sistemare un po' Qua la zona Ma prima voglio farvi vedere I binari Quindi tanto il letto Lo possiamo togliere Perché ormai Non ci serve più Grazie lettino Puoi tornare a casa Perché l'avevo tolto Da casa mia Ragazzi Dobbiamo fare una speedrun Dei binari Perché ho sette minuti Non vorrei rimanere Là sotto Perché altrimenti Non posso decorare Più il sopra Quindi probabilmente Non riuscirò A farvi vedere tutto Eh Tutta la corsia Però sappiate Che funziona E poi Ci lavoreremo La miglioreremo La faremo più carina Sostanzialmente Perché i binari Come ho detto Non mi sono impegnata Tantissimo Vabbè ho fatto Ho fatto altri Vagoni Cioè proprio Dobbiamo essere Super super veloci Abbiamo sette minuti Metto il timer Sette No come sei minuti Vai Velocissimi Facciamo solo una tratta Perché se no Non ce la facciamo E ho portato Modifiche qui Sì Ma le avete visti Nei video degli altri Qua volevo fare il tabellone Ma non sono riuscita a farlo Quindi sto andando Velocissima Ho fatto questa Che non avete visto In un mio video Ma magari in un altro video Questa è la zona del binario E non ho avuto tempo Per fare la metro E quindi Ho fatto una piccola metro Che sta per arrivare Che secondo me È una figata Ho sistemato l'ascensore Blablabla Qua i binari I cartelli con i vari binari E andiamo Ok tutto questo in 20 secondi Bene come vedete Questa è la zona di arrivo E questa è la zona di andata Binario di andata Binario di arrivo Di ritorno Vabbè questa tratta Non è ancora aperta Del tutto Qua ho messo anche Dei carelli Così chi viene ospite E vuole provare Il servizio Beh troverà dei carelli Bene Partiamo Quindi come vedete Ho illuminato tutto Non dovremmo incontrare Dei mob Siamo a un minuto E questa è la prima fermata Il binario non è continuo Perché ci sono le fermate Quindi Fermata Museo Spawn Andando Possiamo fare anche Un'altra tratta Andando nella seconda tratta Arriveremo A casa di Kendall Carpi Carli Eccetera Ho messo delle ceste Fino a qua C'è il binario di ritorno Se no mi sbaglio Fino a qua c'è il binario Di ritorno E museo Vabbè ho scritto anche Eventualmente le altre cose Fermata a casa Kendall Questo lo tolgo Aspettate Abbiamo ancora Un Due minuti Questo binario Andata a castello Oh se riesco Ve lo faccio vedere tutto Beh Come state vedendo Non ho potuto Alimentare tutti i binari Perché alimentare tutto Ragazzi Richiedeva Veramente Ma mi fanno un botto Ma le orecchie Con questi binari E richiedeva Veramente tantissime risorse Perché i binari alimentati Costano veramente Un botto Allora siamo a due minuti Ho tolto Vabbè Poi Pazienza Qua arriviamo Alla casa Del tpc Mark E torniamo Praticamente A casa C'è la curva Infatti stiamo girando E questo ultimo binario Ci porterà Direttamente Alla stazione Centrale Quindi abbiamo fatto Tutte le fermate Più o meno Qui è un po' lentino Perché la tratta È molto lunga Io ho alimentato poco Poi come vi ho detto Se riuscirò Alimenterò Molto 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 di più Allora Questa è la Quarta fermata Che è della casa Dei tpc E resta L'ultima tratta Sono un po' Confusa Con queste tratte L'ho fatta Di notte Quindi Va bene Dai Abbiamo Meno di tre minuti Forza Qua è un po' lento Anche qui È alimentato poco Perché le risorse Iniziavano a scarseggiare Purtroppo Il binario di ritorno Io volevo fare due binari Per non far incontrare I carelli Se qualcuno Utilizza la metro Però Vabbè Ma chi è che la devo utilizzare C'è acqua Oh no Mi sembrava che ci fosse acqua No no Era Ok E qui Siamo comunque Arrivati A destinazione Allora Tolgo un attimo Un carrellino Perché è inutile Lasciarlo qua E Ne posiziono Uno qui E l'altro Lo metto qua Ok Beh Torniamo a casa Veloce 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 Che mi è rimasto Veramente pochissimo tempo Mi sono rimasti due minuti Abbiamo Testato Che per fare il giro Di tutto Lo spawn Di tutta la zona centrale Diciamo Della big vanilla Servono più o meno Tre minuti In metro Ovviamente Con l'elitra Il tempo è dimezzato A uno Però Beh ci sta Ci sta Quindi Tempo rimanente Tre minuti Esatto Quindi tre minuti Per fare il giro Di tutto E arrivare Dall'altra parte Senza l'elitra E considerate anche Senza incontrare Mob Eccetera Magari voi non siete Equipaggiati Volete andare nella casa Di qualcun altro Prendete la metro Non avete tanti rischi Se non quello di poter perdere la vita Perché non è agibile Ovviamente adesso ci dedicheremo Alla parte esterna della metro E a quella delle varie fermate Ma tanto sono in zona no timer Quindi direi Che possiamo concludere qui Il video Ragazzi fatemi sapere Come vi sembra Come ho detto Le premesse della metro Erano quelle che erano Perché non ho finito Non avevo tempo Potevamo fare di meglio Sicuramente Però sono soddisfatta Fatemi sapere sotto nei commenti Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti